scooter contro camioncino lungo la statale 37enne finisce in ospedale primo weekend di maggio in zona gialla aprono gli stabilimenti balneari nuova scuola primaria di tavuglia presentato il progetto adriabus in stalla pesaro urbino e fanno dieci nuovi monitor per l'infomobilità venerdì 30 aprile buona serata benvenuti al nostro telegiornale il consueto appuntamento su rossini tv dedicato all'informazione questa sera apriamo parlando dell'incidente che si è tenuto questa mattina lungo la strada delle marche poco dopo il ristorante taipo due i veicoli coinvolti un camioncino condotto da un 49enne residente in provincia di vivo valencia ed un 37enne a bordo di uno scooter entrambi viaggiavano in direzione fano secondo quanto ricostruito dalla polizia locale il centauro che viaggiava dietro il camioncino si è schiantato contro quest'ultimo mentre l'autocarro stava effettuando una svolta sinistra nello scontro è rimasto ferito il conducente dello scooter che è stato subito trasportato in ospedale la prognosi non è nota ma da quanto riferito dal pronto soccorso l'uomo non sarebbe in condizioni gravi continuiamo con la cronaca e andiamo a fano tre arresti e sette denunce questo il bilancio di controlli straordinari effettuati dai carabinieri di fano e proprio dai controlli alla circolazione stradale che un giovane di 43 anni originario della provincia di viterbo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e occultamento di documenti contabili l'uomo è stato subito condotto presso il carcere di pesaro stessa sorte per un 42enne di marotta accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina arresti domiciliari invece per una trentenne di cartoceto accusata di furto aggravato diverse anche le denunce elevate dai militari al termine di altri controlli due di questi una 22enne fanese ed un ventenne originario di cartoceto sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti mentre un fanese di 46 anni ed un trentunenne proveniente da fossombrone sono stati sorpresi in stato di ebrezza alcolica mentre erano alla guida proprio per questo motivo il trentunenne si è reso protagonista di un incidente stradale nel quale si è scontrato contro un camion in sosta rimanendo però illeso continuiamo a parlare di cronaca perché è stato arrestato dalla polizia di stato di rimini un 17enne pesarese dopo che nel pomeriggio di ieri si è reso protagonista di una rapina presso un supermercato poco lontano dall'ospedale riminese il ragazzo ha minacciato la cassiera con una pistola salve e proprio da questa si è fatto consegnare 800 euro alcuni dipendenti dell'attività insieme a dei passanti hanno tentato di bloccare il giovane all'uscita del punto vendita la tentata fuga del giovane terminata poi con l'arrivo degli agenti e il 17enne è stato arrestato e tradotto nel carcere minorile di bologna cambiamo decisamente argomento e parliamo del primo weekend di maggio in cui le marche resteranno appunto in zona gialla e nel quale sono previste le riaperture degli stabilimenti balneari pronti quindi ad aprire le spiagge anche i bagnini pesaresi mentre gli alberghi della città sono ancora fermi meteo permettendo inizia domani nelle marche la stagione estiva 2021 qualche settimana fa la giunta regionale aveva annunciato la possibilità per gli stabilimenti balneari di aprire le spiagge a partire dal primo maggio in anticipo rispetto ad altre regioni pronti a partire quindi anche gli operatori pesaresi che sperano nel bel tempo per vedere i primi movimenti in spiaggia è una bella opportunità poter aprire il primo maggio e perché comunque si dà una risposta importante alle persone che comunque vogliono stare all'aria aperta avere dei servizi avere una una accessibilità alle spiagge in maniera più comoda pesaro si è preparata magari non tutti gli stabilimenti sono aperti ma tanti lo fanno soprattutto sulle strutture di accoglienza per la ristorazione bar e comunque poter dare anche un minimo di servizio sulla spiaggia il fatto dell'installazione degli ombrelloni prevede tutta una serie di passaggi che proprio per una questione temporale ancora non siamo riusciti a fare molti di noi hanno spianato le spiagge con le ruspe da da pochi giorni magari chi non ha ancora gli ombrelloni che non servono sicuramente i lettini ieri come cna balneari marche ci siamo incontrati in cola ancora incontrati virtualmente con l'assessore stefano aguzzi da parte dell'assessore si è stata la massima disponibilità a dare l'opportunità di lavorare a tutti quanti lavoratori stagionali lavoratori annuali soprattutto anche qui parliamo della somministrazione di alimenti bevande della ristorazione e del bar i protocolli di sicurezza si sono stati confermati quelli dell'anno scorso quindi distanziamento personale misure mascherine nelle aree comuni e diciamo grosso modo sono tutte le stesse situazioni ancora fermi invece gli hotel e le strutture ricettive per il presidente degli albergatori pesaresi fabrizio oliva bisognerà attendere i mesi cardine dell'estate luglio agosto per riscontrare un numero valido di presenze sul territorio per gli alberghi purtroppo non cambia niente infatti noi abbiamo un weekend con gli alberghi chiusi come alla fine di marzo questo fine settimana ci sono cinque strutture annuali aperte per il weekend poi un paio riaprono annuali la prossima settimana e quindi arriveremo a sette strutture ma come dicevo prima non c'è ombre di apertura di stagionali direi che la situazione è peggiorata perché questa situazione del coprifuoco fa sì che ancora arrivano tantissime richieste di informazioni preventivi ma non arrivano le conferme e quindi sono in attesa magari confermono i preventivi ma non mandano le caparre e quindi non confermono i sottori e quindi noi siamo in attesa penso che molti alberghi stagionali quasi tutti gli alberghi stagionali aprono a fine maggio e nella prima decada di giugno e quindi ci sarà un ritardo sulla stagione anche quest'anno e dopo questo primo weekend di maggio la zona gialla nelle marche continuerà anche per la prossima settimana l'annuncio infatti è arrivato questo pomeriggio dal governatore francesco acquaroli nel frattempo il bollettino quotidiano degli aggiornamenti covid comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.494 tamponi 2.340 nel percorso nuove diagnosi 2.154 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 330 il numero maggiore è stato riscontrato nella provincia pesarese con 126 casi 4 i decessi notificati ieri sera fra questi un fanese di 63 anni e questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in provincia è stato presentato il progetto della nuova scuola primaria che sarà realizzata a tavuglia ve lo raccontiamo quindi in questo prossimo servizio è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione della nuova scuola primaria di tavuglia in strada del piano ad un anno circa dalla pubblicazione della graduatoria del ministero dell'istruzione che ha segnato all'amministrazione comunale un finanziamento da 4,3 milioni di euro a copertura dell'investimento prenderanno presto il via i lavori per realizzare una struttura in legno moderna antisismica ed edificata secondo i più efficienti criteri energetici avrà dieci classi come quella esistente però rispetto a quella esistente che chiaramente ha fatto la sua storia perché è del dopoguerra non ha spazi di ampliamento negli ultimi anni hanno cercato di fare il meglio con quello che c'è adesso questa scuola oltre a prevedere due sezioni quindi dieci classi ha la sua mensa e un corpo palestra che può essere utilizzato anche come auditorium devo dire che la proposta progettuale della ditta che ha vinto che è un raggruppamento temporaneo di impresa con capofila subissati di ostravetere ha dato delle caratteristiche tecniche delle migliorie che sono sorprendenti da un anno a questa parte nonostante la pandemia tutte le insomma le difficoltà sono cambiate anche le regole per gli appalti quindi abbiamo dovuto rivedere tutto il quadro economico per la sicurezza covid siamo riusciti a farlo devo ringraziare l'occasione di fare questa conferenza in provincia anche per ringraziare tantissimo gli uffici della sua la stazione unica appaltante perché hanno fatto un ottimo lavoro la cosa che tengo di più a dire a tutti è che io vorrei che le famiglie rimanessero a tavuglia crescere i loro figli dare servizi e tutte le opportunità per crescere figli in un paese come il nostro è un punto a nostro favore a nostro vantaggio obiettivo del crono programma l'apertura della nuova scuola a settembre 2022 è stato questo anche un punto della gara cioè i tempi di realizzazione perché abbiamo visto che le caratteristiche tecniche lo consentono io vorrei che i bambini entrassero a scuola a settembre del prossimo anno questo è un gran sogno l'apertura di una scuola è sempre una cosa grandiosa è una cosa che mi fa come dicevo particolarmente felice perché perché si stanno finalmente buttando le basi per fare delle scuole che siano non solo accoglienti ma che siano anche e che siano spazio allo sviluppo della fantasia dei ragazzi il presidente della provincia giuseppe paolini ha poi ricordato il piano di investimenti del ministero dell'istruzione destinato alla provincia pesarese per gli interventi di edilizia scolastica negli istituti superiori del territorio sono arrivati 7 milioni di euro che stiamo già investendo in alcune strutture sulle come dicevo sulle scuole superiori e avremo molto avremo abbiamo messo più di 4 milioni nelle scuole dell'entroterra perché credo che sia importante tutelare le scuole nelle aree marginali quelle che ci sono rimaste di scuole mantenerle vive e fare in modo che abbiano uno sviluppo sempre più importante perché perché se vogliamo che la gente rimanga a vivere nelle nell'entroterra dobbiamo creare servizi e strutture perché uno ci rimanga prima settimana di rientro a scuola per tanti studenti senza criticità per il settore trasporti e quanto ha affermato il direttore generale di adriabus massimo benedetti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina ad urbino durante la quale sono stati presentati anche 10 nuovi monitor per l'infomobilità sono stati presentati questa mattina in piazza della repubblica ad urbino i monitor di infomobilità adrebus 10 dispositivi acquistati grazie anche ai finanziamenti della regione marche che sono stati installati non solo nella città ducale ma anche a pesaro e a fano grazie al cofinanziamento della regione marche che economicamente ci ha intervenuta in modo sostanziale e questi nuovi strumenti permettono di dare un miglior servizio all'utenza ne abbiamo installati questo è uno ne abbiamo già installati 10 nella nostra provincia tra cui oltre questo altri al parco santo lucia qui urbino altri a pesaro e altri a fano e a differenza di prima che dovevamo appendere delle locandine di comunicazione oggi dagli nostri uffici riusciamo a inviare telematicamente tutto ciò che accade nel nostro territorio quindi anche l'ambiente ne tra beneficio perché meno movimento di mezzi e meno inquinamento in più molto utile anche a livello turistico perché il turista che arriva che ha bisogno di muoversi c'è una video di lettura molto semplice dove attingere le notizie per cui può avere bisogno il percorso non finisce qui perché ovviamente noi abbiamo poi app aziendali e presto si arriverà a attivare la bigliettazione elettronica che è un altro passo abbiamo già attivato il sistema degli avm per il tracciamento dei veicoli e per dare all'utenza la possibilità di verificare il l'arrivo dell'autobus la puntualità e ogni altro tipo di informazione necessaria quindi c'è un percorso io qui rappresento la componente privata che appartiene alla società con sottile adriabus che sono le aziende della provincia di pesaro che da sempre svolgono il servizio di trasporto pubblico locale l'infomobilità intesa come gli strumenti per facilitare l'accesso al servizio di trasporto pubblico sono complementari e stanno incominciando ad avere la stessa importanza dell'autobus bello nuovo pulito perché sappiamo tutti che il viaggio inizia con una richiesta di informazioni questo è un posto dove ci sono molti giovani che tra parenti sono anche i nostri maggiori clienti che sono studenti universitari che raggiungono rubino con il treno e poi magari l'autobus pendolari studenti che si spostano all'interno della provincia ecco questo è uno strumento che noi riteniamo moderno il direttore generale adriabus massimo benedetti ha poi fatto il punto sulla situazione dei trasporti al termine della prima settimana in cui le scuole superiori sono tornate ad accogliere un numero maggiore di studenti in presenza abbiamo iniziato la settimana non abbiamo rilevato alcuna criticità naturalmente il primo giorno è servito solo per limare alcune piccole particolari ma oggi siamo abbastanza tranquilli che il livello di studenti che oggi raggiungono le scuole in presenza sono perfettamente compatibili con il sistema di trasporto pubblico abbiamo aggiunto rispetto al periodo precedente cioè fino al mese scorso abbiamo aggiunto altri ulteriori 7 autobus e quindi l'abbiamo messi là già dove immaginavamo che i numeri sarebbero stati magari più consistenti ammontano a 2,7 i milioni di euro di ristori nazionali destinati alle attività dei comprensori sciistici marchigiani danneggiati dall'emergenza covid-19 indenizzeranno le imprese legate all'attività della filiera neve che operano nelle località montane penalizzate dalla mancata riapertura degli impianti contributi ulteriori sono previsti anche per i gestori degli impianti le scuole e i maestri di sci la comunicazione è arrivata dall'assessore guido castelli in un periodo che ha tenuto a lungo gli spettatori lontani dalle sale cinematografiche non poteva che essere un omaggio al cinema ad aprire il sipario della 57esima mostra internazionale del nuovo cinema con la sigla realizzata dall'animatore italiano donato sansone la mostra internazionale del nuovo cinema di pesaro dopo essere stata una delle poche manifestazioni cinematografiche a tenersi in presenza nel 2020 ritorna a pesaro dal 19 al 26 giugno per la sua 57esima edizione con l'approvazione in giunta e la successiva stipula della relativa convenzione l'amministrazione comunale di terre roveresche ha formalizzato per il triennio 2021-2023 la gestione della grotta ipogeo alla proloco piagge un'associazione locale di volontariato che opera attivamente e da lungo tempo per il territorio e come ormai sappiamo in zona gialla i ristoranti possono effettuare servizio al tavolo soltanto all'aperto il ristorante lo scudiero dal prossimo 4 maggio ha quindi pensato di riproporre un'iniziativa davvero particolare già proposta lo scorso anno ovvero il poter cenare nella cornice dei giardini di palazzo baldassini ce lo racconta quindi in questa prossima intervista lo chef daniele patti noi del ristorante lo scudiero abbiamo avuto la concessione dal marchese baldassini di avere il giardino per le serate che vanno dal martedì sera al venerdì sera quindi creeremo due menù dedicati a questa questa nuova iniziativa questo nuovo diciamo adattamento che il governo ci ha imposto e utilizzeremo questi spazi esterni appunto per servire due cene due menù serviti per quattro giorni quindi la serata del martedì e mercoledì avrà un menù la sala del giovedì e del venerdì avrà un altro menù quindi sarà sia una cena all'aperto e sia comunque un momento culturale per visitare i giardini del palazzo baldassini che da sempre sono sempre stati un po tenuti chiusi o all'oscuro un po dalla dalla città devo dire che l'anno scorso il successo è stato tanto la gente era felicissima di avere questa possibilità anzi le richieste erano talmente alte che non riuscivamo un po a esaudirle quindi ripartiamo martedì 4 con il nostro primo menù la prenotazione è obbligatoria i coperti saranno posizionati nel loggiato che possiamo vedere in fondo al giardino e all'ingresso appunto di piazzale matteotti e le persone che i posti saranno limitati all'incirca 60 barra 80 persone per quanto riguarda gli asporti a mio avviso all'asporto barra delivery premia una tipologia di cucina una tipologia di servizio che sono quelle delle diciamo del mordio fuggi o comunque delle cose facilmente trasportabili io credo che oggi la gente ha tanta voglia di uscire ha tanta voglia di stare assieme ha tanta voglia di stare a tavola tanta voglia di godersi anche quello che sono le ambientazioni arriverà a pesaro nel weekend dell'8 e 9 maggio l'evento il cibo ideale promosso dalla fondazione francesca pirozzi potrete seguire gli appuntamenti di queste importante due giorni anche su rossini tv sentiamo quindi intanto qualche dettaglio su questo programma ma soprattutto come è nato questo evento dalle parole di marco pirozzi che è uno dei direttori della fondazione tutto è nato in memoria di mia figlia che purtroppo era malata di linfoma non ce l'ha fatta ci siamo trovati con la sua tese sull'alimentazione e da lì ci è venuta l'idea di prendere l'aspetto cibo come cosa su cui lei aveva studiato e lavorato e anche su se stessa aveva fatto delle cose per fare qualcosa di utile abbiamo preso dei nutrizionisti abbiamo preso degli chef stellati abbiamo creato il cibo ideale da lì è stato un po il motore per finanziare un progetto di ricerca oncologica che abbiamo individuato al dipartimento di biologia molecolare dell'università di urbino il cibo ideale il libro è stato un po il motore la cosa è diventata un po un caso nazionale perché grazie agli chef stellati un po alla spinta all'aiuto in questi anni la ricerca è andata avanti ha fatto passi molto importanti quindi quest'anno abbiamo deciso di fare questo grande evento l'8 e il 9 di maggio tra l'altro la data non è casuale perché il 9 di maggio sarebbe stato il compleanno di francesca abbiamo detto facciamo un grande evento parliamo di alimentazione una maratona in salotti a tema dove ci saranno esperti politici nutrizionisti chef si parlerà di carne di vegano di vegetariano cioè abbiamo voluto prendere il cibo da tutti i punti di vista e raccontare dei contenuti utili tutto sarà in diretta sulle pagine social della della fondazione e abbiamo trovato la complicità dei media del territorio per riproporlo nei loro nelle loro trasmissioni o facendo dei collegamenti ovviamente è tutta un'operazione rivolta a sensibilizzare il più possibile gli imprenditori del territorio per aiutarci a completare questa ultima tappa del progetto di ricerca perché siamo veramente arrivati alla fine e quest'anno potrebbe essere vitale per poter dire che abbiamo messo un tassellino importante nel percorso addirittura durante l'evento un salotto sarà dedicato ai ricercatori che mi piace farli vedere e mi piace che possano raccontare da dove è partita la cosa e come saranno gli sviluppi il progetto davvero molto molto interessante ed ha bisogno di un supporto per cercare di arrivare appunto a una conclusione come dici tu quindi l'appello a tutti gli imprenditori del territorio ma anche a tutte le persone che vogliono aiutarti in questo progetto cosa devono fare allora riparo ancora degli imprenditori gli imprenditori che vogliono daremo a loro la possibilità di mettere il loro marchio loro logo sulle pagine dell'evento e daremo in cambio delle copie del libro libro che può essere acquistato da chiunque nelle librerie del territorio o se vuole andare online esistono più librerie online da amazon in giù dove è possibile comprare ovviamente oltre al sito della fondazione in sovraimpressione ci dovrebbe essere un IBAN per chi vuole fare un bonifico e sulla pagina facebook c'è un pulsante abbiamo scelto anche questa forma un po' social un po' digitale dove chiunque può cliccare e semplicemente fare una donazione io dico anche un euro e tanti euro messi insieme possono essere utili per arrivare all'obiettivo che abbiamo siamo molto felici noi di Rossini TV chiaramente di collaborare con questo bel evento di cui avete sentito parlare che si chiama appunto il cibo ideale invece adesso andiamo con la programmazione su Rossini TV partendo dalla nutrizionista chilometro zero questa sera le 21 e 15 non perdetevi questa bella puntata dedicata al nostro territorio e ai suoi prodotti e poi ancora questa sera le 21 e 30 invece un approfondimento dedicato al portale turistico della città di Vallefoglia che è stato presentato proprio questa settimana e che è veramente fatto molto molto bene vi invitiamo a seguirlo e soprattutto andarlo a visitare e poi domani anche se è il primo maggio il nostro carissimo Marco Cadeddu vi leggerà i titoli delle notizie del giorno quindi domani collegatevi su Rossini TV alle 7.20 in diretta sulla pagina Facebook ma anche sul canale 633 per la nostra consueta rassegna stampa e poi andiamo ancora avanti perché questa sera le 23 e 15 trasmetteremo fuori tutti gli artisti delle marche in rete per resistere vi ricordiamo anche l'appuntamento per domani sabato appunto e anche domenica e lunedì e poi domani primo maggio alle ore 18 trasmetteremo in diretta su Rossini TV la giornata numero 26 dal Palanino Pizza di Pesaro Italservice contro Kamedosson e invece domenica il consueto appuntamento con Wine and Luxury non perdetevi questa meravigliosa puntata e soprattutto vi andiamo a dire quali sono gli ospiti di domenica appunto 2 maggio Marco Piva che è architetto e poi Lorenzo Fasola Bologna che è titolare del castello di Monte Vibiano e poi avremo Carlo Attisano che è il vicepresidente FIS e poi Maurizio Zanella il titolare di Cade il Bosco una puntata davvero da non perdere e poi ancora domenica 2 maggio alle 21.30 si torna a parlare di sport su Rossini TV perché trasmetteremo la partita anzi l'ottava giornata di campionato di serie C Gold Pisaurum Pesaro contro Bramante Pesaro ho detto davvero tutto come vedete è un fine settimana davvero ricco di appuntamenti su Rossini TV io vi auguro davvero buon primo maggio per la giornata di domani passate un bel weekend e poi l'informazione chiaramente ritornerà lunedì con la rassegna stampa grazie e buona serata